E per intercessione di San Michele Arcangelo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Sancto. Amen. Benediciamo il Signore. E dimiamo grazie a Dio. D'avere estratto la spada, lo spadino dalla statua di San Michele dell'Arcangelo e portarlo in pellegrinaggio fino a San Giovanni, dice essenzialmente il desiderio che la spada della parola di Dio entri ad alimentare le nostre vite, le vite di credenti, di discepoli, di missionari. E sia quella delle beatitudini, perché la parola spada che veramente entra dentro e cambia le mentalità, rinnova i cuori, sono le parole di Gesù nelle beatitudini e poi il suo esempio. È un desiderio che quest'anno si è realizzato. Ci sono tante motivazioni. La chiamata per tanti motivi interiori, il desiderio di dedicarlo alla mia mamma, che Dio si è portata in cielo e le intenzioni che desidero che il Signore benedica, di amore verso i miei fratelli, non solo quelli della mia famiglia. Questo è il secondo anno che insieme al gruppo Scout partecipiamo. Perché noi siamo abituati a camminare tra la nostra comunità, mentre questo cammino ci mette insieme a realtà diverse, quindi ci confrontiamo con gli altri. Ho dei trascorsi qua. Vengo qui da quando avevo dieci anni. Gargano volta che sono venuto a posto per fare il cammino. Meraviglioso. Io ho dei gran ricordi anche con San Michele Arcangelo, con padre Pio mi sono confessato anche da lui. Perciò ho dei trascorsi bellissimi. Grazie.